La lista Europa Verde Toscana è una delle uniche poche liste che appunto sostengono l'ecologia e lo sviluppo ambientale e è una lista necessaria nella coalizione a questo punto di Gianni e è una lista che è stata composta per dire alcuni sì e alcuni no sì ad incentivare la sanità pubblica, sì ad una riapertura della scuola in sicurezza, sì ancora ad un'agricoltura di tipo biologico che riesca quindi a dare un maggiore contributo e un forte incentivo ai nostri prodotti e ai prodotti toscani, per esempio l'olio e il vino, no agli inceneritori, no all'aeroporto. Si presenta così la lista Europa Verde Toscana in appoggio ad Eugenio Gianni per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. I punti principali di Europa Verde sono punti sani, principi forti, quali 12 punti essenziali, quali sostenibilità, welfare, solidarietà, immigrazione, ambiente, giovani. Allora è un partito ricco di principi, un partito in cui si pensa al futuro, un futuro green, un futuro di energie rinnovabili, quindi rispettiamo l'ambiente. È un partito che si è creato un po' ricco di giovani, ricco di persone che vogliono bene all'ambiente, vogliono bene al viver sano. Tocchiamo la tematica principale che oggi ricorre spesso nelle televisioni che è l'immigrazione. Creiamo corridoi sani, trasparenti. Non trattiamo queste persone come pacchi postali, ma cerchiamo di rinnovarci, cerchiamo di trovare dei punti essenziali che lega l'Occidente con l'Oriente e che lega soprattutto il nostro territorio con i paesi più poveri. Oltre al fatto di arricchirci di persone competenti, persone che vogliono veramente bene e rispetto per il paese e per il pianeta. Abbiamo due donne, due giovani donne, sicuramente anche questo è uno degli elementi della lista. Sì, la parte giovane è da sottolineare che in Europa Verde Toscana c'è una forte componente che è la componente dei giovani che hanno un loro zoccolo duro che si chiama appunto Giovani Europeisti Verdi, il gruppo GEV, dai quali poi sono stati estrapolati alcuni candidati che stanno portando avanti la loro campagna con alcuni loro obiettivi, sempre legati alle tecnologie eco green e a un'economia sempre verde che possa sperare nella realizzazione dei nuovi posti di lavoro che appunto il lavoro per noi comunque è molto importante e ancora la promozione del territorio e la promozione anche della cultura e dell'ambiente. Grazie